La Commissione europea per la difesa che avrà come oggetto le tematiche trattate dall'indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa. Avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare nonché sulla web tv della Camera dei Deputati. Saluto e do il benvenuto al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la difesa, l'onorevole Iri Sedievi, ringraziandolo per la partecipazione ai lavori della Commissione. Saluto i colleghi presenti e i colleghi che partecipano secondo le modalità stabilite dall'Aggiunta per il regolamento del 4 novembre 2020, ai quali rivolgo l'invito a tenere spenti i microfoni per consentire una corretta fruizione dell'audio. Ricordo che dopo l'intervento del nostro ospite darò la parola ai colleghi che intendano porre domande o svolgere osservazioni. Successivamente il nostro ospite potrà rispondere alle domande poste. A tal proposito chiedo ai colleghi di far pervenire fin da adesso la propria richiesta di iscrizione a parlare al Banco della Presidenza. Cedo quindi la parola all'onorevole Iri Sedievi, direttore esecutivo dell'Eda. Prego. Grazie mille signor Presidente e buon pomeriggio ai membri della Commissione difesa della Camera dei Deputati italiana. Per me è davvero un privilegio potermi rivolgere a voi oggi. Mi è stato chiesto di parlarvi della pianificazione dei sistemi di difesa, delle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione, degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa. Ma prima di affrontare questi temi vorrei sottolineare che l'Agenzia europea per la difesa è un'agenzia intergovernativa costituita dagli Stati membri per gli Stati membri. Quindi siamo qui per servire voi e vorrei sottolineare che noi siamo un'agenzia specifica perché abbiamo un paragrafo nel trattato costituzionale, quindi nel trattato sull'Unione europea. Quindi ci consideriamo un'agenzia costituzionale. Vorrei sottolineare oggi tre ambiti di esame del nostro dibattito. Vi vorrei informare innanzitutto sul ruolo dell'Agenzia, della sua attività di sostegno e della cooperazione nel campo della difesa europea e dello sviluppo delle capacità. Poi mi concentrerò sulla sua missione specifica nel settore della ricerca e della tecnologia, sottolineando da un lato il suo ruolo crescente in merito all'innovazione e alle tecnologie emergenti e dirompenti e, d'altra parte, del suo potenziale ruolo futuro nella gestione dei progetti nel contesto del Fondo europeo per la difesa. E poi vorrei anche accennare all'attuale contributo dell'Italia all'Agenzia europea per la difesa e a potenziali ulteriori attività di nicchia. Dal 2004, quando l'Agenzia è stata costituita, noi siamo un hub per la cooperazione europea in materia di difesa e la nostra missione principale è quella di partecipare alla definizione delle politiche relative alle capacità e agli armamenti europei, sostenere il Consiglio e gli Stati membri nelle loro attività per migliorare le capacità di difesa dell'Unione nel settore della gestione della crisi a sostegno degli obiettivi della politica di sicurezza e difesa comune. Nel maggio 2017 i ministri della difesa decisero di rafforzare il ruolo e la missione dell'Agenzia facendola diventare un fondamentale strumento intergovernativo per la definizione delle priorità a sostegno dello sviluppo delle capacità e della pianificazione in coordinamento con il Servizio europeo per l'azione esterna, lo Stato maggiore dell'UE e il Comitato militare dell'UE dove si riuniscono i capi di Stato maggiore degli Stati membri. Noi dobbiamo, siamo stati creati, siamo stati costituiti per essere la sede di cooperazione e la struttura di supporto gestionale per gli Stati membri che partecipano alla nostra agenzia per lo sviluppo di progetti tecnologici e di sviluppo delle capacità. Il nostro ruolo è cresciuto, siamo adesso facilitatori e catalizzatori per i ministeri della difesa, per l'elaborazione di politiche europee più ampie. Per poter attuare questa missione l'agenzia funge, diciamo, dal garante della coerenza delle iniziative europee per la difesa. Noi coordiniamo la revisione del piano di sviluppo delle capacità e qui, in questo contesto, gli Stati membri definiscono le loro priorità per le capacità future. Fungiamo da segretariato per la revisione annuale coordinata sulla difesa, la CARD, e poi per la PESCO, la cooperazione strutturata permanente, in coordinamento e in cooperazione con il servizio di azione esterna e le autorità militari dell'UE. Tutto questo nell'ambito in correlazione con il Fondo europeo per la difesa. È fondamentale continuare a garantire che le iniziative europee per la difesa siano coerenti, allineate e si rafforzino a vicenda. Lo sviluppo di capacità nazionali per la difesa, e mi riferisco a quegli Stati membri che sono anche membri della Nato e che contano su un unico serbatoio di capacità militari, questo sviluppo è soggetto ai rispettivi processi nazionali di pianificazione della difesa e ai rispettivi processi decisionali in ciascuno Stato membro. Tuttavia, lavoriamo per fornire agli Stati membri gli strumenti europei che consentano di migliorare la cooperazione europea in materia di difesa, sviluppando insieme in modo collaborativo capacità e tecnologie, in piena integrazione con la Nato, con l'obiettivo di perseguire l'autonomia strategica europea. Il successo di questi strumenti dipenderà dal livello di coerenza con il quale saranno messi in atto e dalla portata attraverso la quale saranno integrati e utilizzati dagli Stati membri per la loro pianificazione nazionale in materia di difesa. Vi fornisco alcune altre informazioni più dettagliate. La nostra agenzia contribuisce a garantire che tutte le attività collaborative si concentrino sulle priorità europee concordate in materia di capacità e producano risultati tangibili, capacità di alto livello ad ampio spettro. Questo avviene attraverso il piano di sviluppo delle capacità che garantisce anche la coerenza dei risultati con il processo di pianificazione Nato per la difesa e copre l'intero inventario di capacità degli Stati membri. Fornisce la base e l'orientamento generale per uno sviluppo coerente del ventaglio di capacità europee. Fungendo quindi da punto di riferimento, da strumento guida per la CARD, la revisione annuale coordinata, la PESCO e il fondo per la difesa. Gli obiettivi individuati da ciascuno Stato membro nel piano di sviluppo delle capacità vengono canalizzati attraverso le varie iniziative. Abbiamo la CARD, la revisione annuale coordinata sulla difesa, che fornisce un quadro ampio dello scenario europeo per la difesa, facilita l'individuazione di opportunità di collaborazione organizzate in sei focus areas, ambiti principali. Carri armati da battaglia di prossima generazione, sistemi soldato, natanti di superficie delle classi di motovedette, sistemi di contrasto dei sistemi aerei senza pilota, applicazioni della difesa nello spazio e rafforzamento della mobilità militare. Quindi sei ambiti principali. Le priorità restano però quelle definite nel piano di sviluppo delle capacità. Poi abbiamo la PESCO, la struttura di cooperazione rafforzata, che sostiene la pianificazione comune e l'attuazione dei progetti in un contesto vincolante. Da ultimo parliamo del sostegno finanziario. Abbiamo a tal proposito il Fondo europeo per la difesa, il cui compito è quello di rafforzare la competitività e la capacità innovativa della base tecnologica industriale di difesa europea e di TB, finanziando la ricerca cooperativa e iniziative di sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie in materia di difesa. in questo quadro di iniziative nuove, ma ormai ben avviate, la bussola strategica, un tema di cui si parla molto tra gli Stati membri. Speriamo attraverso questa bussola strategica di fornire l'orientamento politico necessario per lavorare in quattro ambiti, resilienza, gestione delle crisi, capacità e partenariati. Ciò ci consentirà di capire cosa deve essere raggiunto e conseguito da lui e dagli Stati membri in termini di capacità e di soddisfare il livello di ambizione definito dall'Unione Europea e sviluppare le necessarie capacità di alto livello con un pacchetto di forze coerente che copra tutto lo spettro. So che la vostra indagine conoscitiva si occupa delle prospettive anche per la ricerca e la tecnologia in materia di difesa e vi descrivo il lavoro dell'Agenzia in questo ambito. Il nostro portfolio in materia di ricerca e tecnologia registra il quarto anno di crescita significativa con un nuovo record sia nel numero di accordi firmati sia per il valore complessivo dei progetti. Nel 2020, l'anno scorso, la nostra Agenzia Europea per la Difesa ha firmato 18 nuovi progetti ad hoc per la ricerca e la tecnologia per un valore complessivo di 79 milioni di euro. Il nostro portfolio di ricerca e tecnologia prevede attualmente 46 progetti ad hoc in esecuzione per un valore complessivo di circa 290 milioni di euro. In questo contesto è fondamentale sottolineare il valore aggiunto fornito dalla cosiddetta agenda strategica di ricerca onnicomprensiva la cosiddetta OSRA che fornisce una gamma consolidata e ampia di priorità in materia di ricerca e tecnologia a livello europeo. Le agende strategiche di ricerca tematiche insieme ai blocchi tecnologici e a delle specifiche roadmap per lo sviluppo di tecnologie concordate dagli Stati membri partecipanti vengono utilizzati per orientare le decisioni relative ai finanziamenti nel contesto del Fondo europeo per la difesa. Quindi questo è un quadro che descrive i diversi approcci le modalità diverse attraverso le quali portiamo avanti la realizzazione delle priorità stabilite dagli Stati membri nei piani di sviluppo delle capacità attraverso le varie iniziative. brevemente parlo del ruolo dell'Agenzia a sostegno della ricerca e tecnologia e in merito al Fondo europeo per la difesa che viene utilizzato per il finanziamento dei progetti. prima di passare al Fondo europeo per la difesa a proposito dell'innovazione l'innovazione in generale è fondamentale per quel che facciamo e per il futuro della nostra agenzia vi cito alcune attività alcuni esempi che possono essere di interesse specifico per voi. Il premio dell'Agenzia europea per la difesa per l'innovazione è volto a stimolare il coinvolgimento di comunità e innovatori di ricerca e tecnologia in materia di difesa non tradizionali. siamo lieti di registrare che l'edizione dello scorso anno è stata assegnata all'Italia per il progetto Svadar proposto dal Centro Italiano Ricerche Aerospaziali di Capua con questo progetto che ha vinto il premio per l'innovazione dello scorso anno ha promosso una soluzione tecnologica per il tracciamento di sciami di droni ed è riuscito a fornire un quadro operativo degli attacchi di sciami. L'agenzia si concentra in particolare a promuovere la partecipazione dell'industria ai cosiddetti CAPTEX i gruppi di capacità e tecnologia questi gruppi offrono una straordinaria occasione al mondo industriale per partecipare alla definizione delle tecnologie fondamentali per i sistemi futuri attraverso le agende strategiche di ricerca e promuoviamo la collaborazione con altri comparti industriali di altri stati membri affinché si creino sinergie e collaborazioni e vengano lanciati i progetti comuni nel contesto dell'Unione Europea posso dire che siamo all'avanguardia anche in merito all'intelligenza artificiale e questo si ricollega al nostro lavoro iniziale che si è concentrato sull'iniziativa intelligenza artificiale nella difesa che ha previsto la definizione di standard comuni di una tassonomia, di un glossario comune in merito all'intelligenza artificiale contribuiamo anche al piano d'azione della Commissione sulle sinergie tra l'industria civile della difesa e spaziale dopo il lancio del piano d'azione e il riconoscimento del nostro lavoro consolidato in materia di sinergie tra questi settori la Commissione ha invitato la nostra agenzia a partecipare a delle squadre specifiche dedicate all'attuazione delle 14 azioni elaborate per i settori industriali civile della difesa ora dopo avervi parlato delle attività in materia di ricerca e tecnologia passo al possibile ruolo della nostra agenzia a sostegno del Fondo Europeo per la Difesa credo che si tratti di una delle attività principali per la nostra agenzia il 29 aprile scorso le istituzioni europee hanno adottato il regolamento che istituisce il Fondo Europeo per la Difesa la Commissione Europea lavora al programma di lavoro 2021 sia per la dimensione capacità e sviluppo sia per la dimensione ricerca sia per la dimensione capacità che per quella sviluppo e ricerca con l'obiettivo di lanciare i primi inviti a presentare proposte per la prossima estate il possibile ruolo della nostra agenzia in relazione al Fondo Europeo per la Difesa i possibili ruoli possono essere tre un ruolo a monte, uno attuativo e uno a valle il nostro possibile ruolo a monte prevede che l'EDA, la nostra agenzia abbia già uno status di osservatore nel comitato di programma del Fondo Europeo per la Difesa la nostra agenzia fornisce il proprio parere sulla base delle priorità per lo sviluppo di capacità dell'Unione Europea delle priorità dell'OSRA ma anche in merito a seguito degli esiti della revisione CARD e delle attività nell'ambito della PESCO quindi tutto questo per quanto riguarda invece il nostro ruolo per l'attuazione dei progetti sosteniamo in linea di massima possiamo fornire sostegno in tre fasi diverse dell'attuazione possiamo svolgere un ruolo di gestione dei progetti su incarico degli stati membri e la nostra agenzia in questo caso può fungere da project manager su richiesta degli stati membri poi possiamo avere un ruolo di gestione indiretta dei progetti e poi un ruolo di consulenza e amministrativo su richiesta degli stati membri partecipanti per quanto riguarda il nostro sostegno a valle la nostra agenzia potrebbe promuovere azioni successive che diano continuità alle attività di ricerca e di sviluppo dopo il completamento di progetti approvati dal Fondo europeo per la difesa per chiudere il ciclo di definizione e realizzazione delle capacità questi possibili nuovi ruoli della nostra agenzia sono oggetto di dibattito con gli stati membri e la commissione affinché si possa individuare un ruolo concreto dell'agenzia anche nel contesto del Fondo europeo per la difesa il lancio del Fondo europeo per la difesa è solo un'altra conferma del crescente ruolo della tecnologia in un momento decisivo per il nostro futuro abbiamo settori come l'intelligenza artificiale big data, la robotica sistemi autonomi le biotecnologie per il potenziamento umano le armi a energia diretta o nuovi materiali avanzati queste aree sono caratterizzate spesso da una natura duale ed ha un impatto sia sull'area civile che su quella militare e a volte ci sono alcuni stati che fanno uso di queste tecnologie per scopi anche militari aspetta a noi comportarci in modo da non perdere la nostra supremazia competitiva rispetto agli avversari lavorando insieme ai nostri partner le tecnologie dirompenti non rappresentano soltanto un rischio ma forniscono solo anche un'opportunità e hanno la potenzialità di contribuire a migliorare la nostra cosiddetta consapevolezza situazionale e accelerando i nostri processi decisionali tutti i domini dalla terra allo spazio dalla cibernetica al mare subiranno l'impatto di queste tecnologie i nostri concetti le dottrine le pratiche operative le capacità in materia di difesa quindi devono adattarsi dobbiamo insieme utilizzare l'innovazione e investire di più in ricerca, tecnologia e innovazione perché non stiamo iniziando da zero la nostra agenzia europea per la difesa si occupa dei vari aspetti delle tecnologie dirompenti in tanti dei propri progetti ora ci prepariamo per il lancio per il lancio di un piano d'azione per le tecnologie emergenti e dirompenti attraverso il quale monitoreremo fuori e dentro l'Europa le ultime tendenze in questo ambito e riusciremo a individuare ed esplorare nuove opportunità di collaborazione brevemente adesso prima di giungere alla conclusione un breve accenno alla cooperazione con l'Italia vorrei innanzitutto ringraziare l'Italia ringraziare voi per la costanza del vostro contributo della vostra partecipazione alle attività dell'agenzia attualmente l'Italia contribuisce a 51 progetti e programmi nella nostra agenzia e partecipa a 21 progetti PESCO guidandone 9 nel settore della ricerca e della tecnologia il contributo dell'Italia ai programmi e ai progetti è pari a 35 milioni e 500 mila euro per esempio l'Italia insieme alla Repubblica cieca il mio paese d'origine nel 2018 ha fermato un accordo per un progetto chiamato ALBA Advanced Light Ballistic Protection che deve essere utilizzato per la protezione balistica a veicoli corazzati medi e leggeri per quanto riguarda il finanziamento di progetti di collaborazione per la capacità di difesa e la ricerca vorrei ricordarvi che noi aspettiamo ancora che l'Italia decida di firmare o di non firmare il meccanismo finanziario cooperativo elaborato e creato insieme alla Banca Mondiale degli Investimenti che punta a ridurre i problemi di sincronizzazione dei bilanci per i progetti di collaborazione per quanto riguarda la revisione annuale CARD con il nostro dialogo bilaterale con il direttore per le politiche della difesa generale e gli annunci anche grazie all'intervento del ministro Guerini all'ultimo consiglio per la difesa dello scorso 6 maggio abbiamo capito che l'Italia è interessata in particolare alle EPC-2S al progetto europeo di navi da superficie della classe motovedette e a progetti relativi al contrasto ai sistemi senza piloti e anti-accesso e negazione d'aria due ambiti ai quali l'Italia è particolarmente interessata ringrazio 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 l'Italia anche per aver richiesto di recente il sostegno dell'Italia per portare avanti il progetto pesco per il progetto per la realizzazione della European Patrol Corvette l'Italia guida un gruppo di quattro paesi partecipanti pesco con l'obiettivo di mettere a punto una nuova classe di navi militari chiamati EPC e European Patrol Corvette che ospiterà diversi sistemi e carichi utili in grado di consentire lo svolgimento di numerosi compiti e missioni in modo modulare e flessibile si tratta solo di alcuni esempi della nostra cooperazione reciproca vorrei ringraziare l'Italia per aver inviato davvero eccellenti esperti alla nostra agenzia europea per la difesa l'Italia è davvero ben rappresentata in modo eccellente presso la nostra agenzia in vari ambiti di attività e mi sento davvero privilegiato a poter lavorare con colleghi italiani così eccellenti e preparati nel ringraziarvi ancora una volta per avermi invitato a questa audizione dinanzi alla vostra commissione vorrei chiudere con una nota positiva e promettente siamo nel bel mezzo di una fase di riflessione nella nostra agenzia anche grazie all'iniziativa della bussola strategica noi vorremmo sviluppare ulteriormente la nostra agenzia affinché non solo sia sempre all'altezza sempre pronta per gli stati membri per poter aiutare gli stati membri a promuovere i loro interessi a realizzare i loro compiti ma vorremmo che la nostra agenzia fruibile da parte degli stati membri in termini di procedure di assistenza e di supporto vorremmo rafforzare la nostra attività soprattutto mirandola e concentrandola sempre di più sulle tecnologie e sull'innovazione e con ciò signor presidente grazie per la vostra attenzione resto a vostra disposizione per rispondere a vostre eventuali domande grazie mille bene grazie ringrazio l'onorevole scedievi per la relazione che ha esposto e che certamente contribuisce in maniera significativa ai lavori di approfondimento di indagine della nostra commissione la ringrazio anche per le sue parole di apprezzamento nei confronti dell'italia io adesso do la parola ai colleghi che ne hanno fatto richiesta collega resta prega prego grazie presidente onorevole direttore la ringrazio per la sua relazione davvero esaustiva lei ha più volte citato il fondo europeo per la difesa un atto verso il quale anche questa commissione sul finire del 2018 ha fornito il proprio contributo attraverso un parere all'interno del quale erano anche indicate delle osservazioni che sappiamo poi la commissione europea abbia ripreso osservazioni verso le quali poi è stato fornito anche questo ovviamente ci ha onorati un riscontro mediante una lettera una comunicazione che la commissione europea ci ha inviato nel gennaio del 2019 sappiamo quindi perfettamente l'importanza strategica del fondo nel quadro del sistema unione europea ma è ben noto anche che il progetto di bilancio e mi riferisco ovviamente all'ultimo dell'unione europea per il 2022 comprende le spese previste nell'ambito del programma next generation EU nel progetto del bilancio è anche noto che sono proposti gli importi per ogni programma uno diciamo una colonna contenente gli impegni con i finanziamenti che possono essere stabiliti e gli altri i pagamenti sappiamo anche che il bilancio rifette proprio le priorità strategiche dell'unione europea che servono a garantire in questo particolare fatti specie in questo caratteristico periodo una ripresa sostenibile ecco io ora le chiedo in considerazione delle sfide che ci vedono impegnati in materia soprattutto di sicurezza e difesa comune ma anche della mobilità militare le chiedo quali sono gli impegni e le priorità programmate per il prossimo futuro proprio nell'ottica di una ripresa sostenibile grazie bene grazie grazie onorevole resta do adesso la parola all'onorevole russo prego collega grazie signor presidente ringrazio anche io il relatore soprattutto nel suo delineare un quadro incoraggiante circa l'integrazione europea di quelli che sono i futuri programmi e proprio su questo non è tanto una osservazione una domanda di tipo tecnico ma soprattutto di tipo politico mi chiedevo se ci sono ancora poiché la difesa è comunque un asset strategico di ogni stato che riverbera assolutamente in maniera importante anche dal punto di vista industriale se ci sono mi chiedevo ancora delle resistenze delle gelosie delle ritrosie per alcuni stati nel voler partecipare ai programmi e soprattutto se c'è la volontà anche di alcuni stati di non far partire alcuni programmi che possono essere interessanti dal punto di vista europeo noi sappiamo benissimo che il nostro continente in particolare i paesi europei hanno per le stesse tipologie di piattaforme un numero troppo diverso e troppo frammentato sia per quanto riguarda la progettazione sia per quanto riguarda la realizzazione industriale sia per i numeri di scala di modelli simili ma prodotti con aziende e da paesi diversi sicuramente la maggiore integrazione che i programmi europei intendono realizzare comportano un efficientamento delle risorse una maggiore produzione di scala ovviamente un abbattimento dei costi e soprattutto un mantenimento di una sovranità tecnologica di tipo europeo affinché non si vada a dipendere da altri stati anche insomma a di fuori dell'Unione Europea l'esempio più lampante è quello del caccia di quinta generazione molti paesi europei si sono poi affidati all'F35 americano insomma colgo nelle sue parole un un entusiasmo e anche un quadro finalmente positivo e mi auguro riprendendo anche la richiesta avanzata prima dal collega Aresta di sapere quali sono gli scenari che si prospettano affinché ci sia anche una maggiore cooperazione di integrazione europea nei termini dell'industria difesa grazie grazie Presidente io come colleghi precedentemente ringrazio l'esposizione molto chiara che c'è stata fatta e mi consenterei su una singola domanda specifica che parte da due origini di valutazione la prima il fatto che l'Europa Italia e Francia in particolare ma anche il Regno Unito che non fa più parte del sistema europeo hanno comunque una storia nella canteristica significativa noi abbiamo costruito navi per tutto il mondo la seconda è il tema del Mediterraneo che è al centro della quotidiana azione politica di tanti governi la domanda è questa abbiamo mai pensato o preso in considerazione o è possibile pensare di realizzare una nave ospedale che sia a disposizione nel Mediterraneo per tutti gli elementi di crisi che potessero presentarsi penso ad esempio a ciò che è accaduto a Beirut alcuni mesi fa una nave ospedale nel Mediterraneo se fosse stato utile penso al fatto del Covid che avrebbe potuto essere a largo una nave ospedale di qualche apporto con particolare crisi penso a coloro i quali sono abbandonati in mare in mare ecco ripeto la domanda è se l'ipotesi di una nave ospedale multiforze al centro del Mediterraneo che secondo me sarebbe dal punto di vista propositivo un grande fatto sia mai stata presa in considerazione grazie onorevole Tondo ha chiesto di intervenire l'onorevole Perego di Cremnago prego collega grazie presidente grazie direttore per la per la sua analisi la sua analisi che tra l'altro si inserisce in un contesto politico eh voglio dire molto attinente viste le dichiarazioni eh del presidente Biden di qualche giorno fa sull'opportunità eh dell'Europa di accompagnare gli Stati Uniti dotandosi di una forza militare europea eh diciamo di contrasto di deterrenza rispetto a eh la Cina e la Russia credo che eh l'industria della difesa europea e le industrie quindi nazionali siano facendo passi avanti ne è un esempio la prossima imminente eh acquisizione fusione di fincantieri con Thyssen per la produzione dei sottomarini e quindi il rafforzamento in questo caso dell'asse italo-todesca ma l'opportunità di eh mettere regime diciamo a campione europeo le nostre industrie nazionali italiane e quelle degli altri paesi credo che sia una necessità se pensiamo e se vogliamo competere eh con le industrie eh con le industrie cinesi che possono contare ingenti investimenti oltre che una manodopera eh importante a basso costo e quindi la domanda che le pongo è se lei pensa che queste dichiarazioni del presidente Biden siano anche eh possono anche stimolare anche se poi ci sono state alcune diciamo elementi di criticità esposte dal presidente Merkel eh sulla sulla creazione di un un organismo diciamo sul rafforzamento della difesa europea quindi di una forza militare europea se lei quindi crede che queste eh dichiarazioni possono facilitare questo percorso che è cruciale per la sopravvivenza dell'industria di difesa nazionale grazie bene grazie a lei collega io non ho altre richieste pertanto eh do la parola al nostro ospite per la replica prego grazie grazie infinite eh per tutte queste domande cominciare dell'ultima magari certo non sta a me eh commentare quanto detto dal presidente Biden ma in linea di massima direi che eh ora eh il rapporto tra Stati Uniti ed Europa eh è un po' più stretto c'è il riconoscimento dall'altra sull'altra sponda dell'Atlantico che eh l'Europa ha i suoi legittimi interessi eh anche legati eh alla necessità di essere eh in grado anche di promuovere quegli stessi interessi eh anche eh attraverso delle capacità più forti eh più autonome eh anche puntando eh appunto all'autonomia strategica la cosa importante da notare è che la nuova amministrazione statunitense da quello che so eh capisce questa nozione di autonomia strategica in modo costruttivo in modo positivo quindi non come qualcosa da vedere come contrario all'interesse statunitense ma anzi come qualcosa che darebbe eh all'Europa eh un maggior livello di capacità di proteggere i nostri cittadini in modo autonomo quindi per poter anche promuovere i nostri interessi in modo autonomo eh soprattutto eh nelle periferie più esterne e soprattutto in quelle aree nelle quali possiamo aspettarci eh sempre più problemi il Mediterraneo eh Nord Africa Medio Oriente del Sahel e questo è un bene e credo eh che presto appunto ci sarà un vertice tra eh l'Unione Europea e gli Stati Uniti ed ecco il riconoscimento che eh i nostri sforzi per rafforzare la difesa europea eh sono volti da un lato eh al poterci prendere cura dei nostri interessi eh e di eh affrontare le minacce e dei rischi in modo autonomo e dallo stesso tempo eh che tutto questo può rafforzare eh appunto la difesa a livello di Nato e vengo qui alla seconda domanda riguardante eh gli scenari del futuro ecco qualunque cosa qualunque cosa facciamo adesso qualunque cosa cominciamo a fare a livello di pianificazione delle nostre capacità e lo sviluppo delle capacità è una maratona non è uno sprint è una cosa da eh cominciare adesso con la pianificazione per poter avere risultati tra 10-15 anni ecco dobbiamo essere ambiziosi e allo stesso tempo dobbiamo chiaramente fissarci gli obiettivi giusti eh che abbiano gli effetti giusti e quindi noi dobbiamo pensare dobbiamo cercare di prevedere eh dove saremo nel 2030 o nel 2035 a livello del contesto generale legato alla difesa e temo che eh appunto nel 2035 le minacce intorno a noi saranno più serie più pericolose il mondo sarà più pericoloso di quanto non sia oggi l'Europa sarà circondata soprattutto eh alla periferia sud sarà circondata da più instabilità da stati falliti da terrorismo l'impatto dei cambiamenti climatici in quel anno avrà degli effetti enormi anche sulla questione migratoria che si unisce poi chiaramente la questione demografica ci saranno nuove tecnologie che saranno sempre più accessibili eh anche per gli attori non statali quindi dovremmo far fronte a tutto questo eh considerando anche un altro fattore che sarà essenziale appunto nel 2030 2035 mi riferisco al fatto che inevitabilmente gli Stati Uniti saranno più coinvolti nell'area dell'Asia Pacifico eh casa della Cina gli Stati Uniti saranno presenti nella Nato chiaramente per quanto riguarda la difesa collettiva dell'Europa ma allo stesso tempo eh gli americani si aspetteranno eh una maggior capacità una maggior autonomia europea eh per quanto riguarda i nostri interessi regionali questo è un punto importante da considerare e dovremmo ambire a questo dovremmo ambire a questa autonomia eh non solo a livello decisionale ma dovremmo anche ambire all'autonomia eh legata alle capacità autonome e la nostra possibilità di usarle queste capacità quindi essere più autonomi significa essere meno dipendenti eh anche a livello industriale ed è proprio questo che stiamo cercando di avviare con tutte queste iniziative e il Fondo eh europeo per la difesa è importantissimo perché fornisce qualcosa di realmente unico eh che non è presente nella pianificazione Nato nella sviluppo di capacità Nato è un fondo che fornisce appunto finanziamenti che funge da stimolo anche per la collaborazione il che mi porta eh nuovamente alla seconda domanda domanda eccellente tra l'altro eh che riguarda eh un imperativo e cioè l'inclusività e la domanda eh riassumendo eh riguardava le possibili gelosie tra stati membri per quanto riguarda la partecipazione eh nei progetti eh e di vari livelli di coinvolgimento i vari gradi di entusiasmo eh tra stati e qui ci sono varie sfaccettature se vogliamo eh eh primo e questo è davvero eh l'imperativo eh più importante dobbiamo essere più inclusivi eh nel senso che eh vanno date pari opportunità eh senza discriminare eh eh a tutti gli attori eh a tutti i protagonisti eh anche basandoci sul merito chiaramente faccio riferimento alle piccole imprese le medie imprese e anche quelle eh più grandi presenti in tutti gli stati quelli più grandi quelli più piccoli e quelli medi e questo è importantissimo eh ed è quello che facciamo anche nella nostra agenzia noi forniamo eh piattaforme alle industrie affinché possano inserirsi appunto eh nel mercato in questo gioco se vogliamo sostenendole per poter avere appunto un accesso eh a queste iniziative per lo sviluppo delle capacità europee questo è fondamentale quando tutti gli stati membri eh capiranno che le loro industrie possono partecipare eh in base al merito in base alle loro capacità in base alle loro eh qualità base al loro valore raggiunto ebbene sarà allora che avremo successo perché è lì che vedremo le sinergie eh derivanti dalla collaborazione tra industrie con nuove tecnologie nuove soluzioni con eh innovazione fatta insieme e così via io sono entusiasta da questo punto di vista perché credo che sia l'unico modo davvero eh per andare avanti molto banalmente eh o eh difesa e innovazione vanno insieme oppure la difesa diventerà irrilevante è molto semplice il concetto quindi ora l'anno prossimo quando lanceremo i primi progetti sarà quindi adesso e tra un anno che dobbiamo eh darci quella spinta eh necessaria dobbiamo essere inclusivi per coinvolgere quegli stati membri che sono un po' riluttanti e certamente eh diversi stati membri eh soprattutto dell'area dell'Europa centrale ed orientale i nuovi membri dell'Unione Europea i nuovi membri della Nato eh vedono la loro casa principale se vogliamo eh nella Nato eh le loro capacità di sviluppo eh le vedono eh soprattutto legati al loro interesse nazionale con la Nato eh in un certo senso anche con l'Unione Europea ecco sta a noi convincere quegli stati un po' più riluttanti eh eh soltanto appunto includendoli includendo le loro industrie eh dimostrando loro che si tratta di una situazione win-win quindi utile per tutti eh dimostrando loro che eh possono avere successo eh certamente includendo le loro industrie nei vari cluster come eh già stanno facendo eh in ambito card e come stanno facendo anche in ambito del Fondo Europeo per la Difesa ecco sarà questo il modo per eh coinvolgere eh tutti gli Stati membri ancora una volta eh con l'obiettivo di creare eh un'industria di difesa sempre più sinergica e forte eh ed è stato detto tante volte basta guardare eh ai nostri competitor ma anche ai nostri partner ecco tutti loro hanno industrie forti hanno dei leader industriali eh è l'unico modo per poter essere competitivi eh per essere eh per avere una certa interoperabilità con i nostri partner soprattutto gli Stati Uniti eh e per essere eh all'avanguardia eh ed essere avanti rispetto ai nostri competitor appunto è solo collaborando tra di noi eh e qualunque attività eh che porta ad esempio alla fusione che avete citato eh è il modo per procedere e poi c'è anche un'altra ottima domanda eh e cioè eh se dobbiamo creare una sorta di di ospedale una nave ospedale eh per il Mediterraneo eh è un'idea eccellente devo dire eh e in seno della nostra agenzia eh i progetti cominciano proprio così arriva qualcuno con una buona idea eh eh chiaramente è necessario del sostegno eh del governo del ministero della difesa e poi bisogna trovare partner per poter lavorare a questa idea eh credo eh in realtà che eh ci sia una nave spagnola la Juan Carlos 2 è il nome della nave se non sbaglio che mette insieme la possibilità di essere sia una portaerei eh ed hanno anche una capacità anfibia appunto per operazioni di tipo anfibio e allo stesso tempo è una nave che può essere convertita in una sorta di ospedale da campo o ospedale marittimo eh con una eh buona capacità eh di accoglienza per migliaia di pazienti in realtà eh quindi già esiste eh questa sorta di capacità eh l'Agenzia eh europea per la difesa eh attualmente sostiene un progetto pesco per la costruzione del primissimo ospedale da campo dell'Unione Europea c'erano sei o sette stati membri che hanno deciso che debba essere pronto un ospedale da campo per le operazioni europee eh eh e quindi senza dover improvvisare eh se necessario per qualunque missione ed è un eh progetto che sosteniamo c'è un altro progetto pesco che rafforza il comando per così dire medico europeo quindi c'è parecchio eh che stiamo facendo appunto dal punto di vista delle capacità mediche eh ed è un tema eh chiaramente che è diventato molto importante anche con la pandemia covid ma appunto questa idea di creare una nave ospedale è un'idea eccellente eh chiaramente eh anche alla luce dell'importanza strategica fondamentale del Mediterraneo eh per la sicurezza europea come eh anch'io ho detto eh poco fa e poi venendo alla primissima domanda eh e grazie eh grazie infinite per aver appunto inviato eh le vostre osservazioni sulla creazione del fondo europeo per la difesa eh ha citato l'anno 2018 quando si stava un po' ancora modellando la faccenda eh intanto devo dire che il fondo è un catalizzatore eh per le soluzioni più innovative eh e per le capacità eh della prossima generazione della nuova generazione ma è solo una parte della soluzione alla fine della fiera sono gli stati membri eh perché le capacità vengono create all'interno degli stati membri e non a Bruxelles noi possiamo soltanto fungere da facilitatori da stimolatori possiamo soltanto aiutare e assistere nel project management ma appunto alla fine sono gli stati membri che devono fare il grosso eh e poi eh parlava anche del legame tra eh il fondo europeo per la difesa e la ripresa post covid eh e certamente un ruolo esiste eh riguardo all'industria e tanti progetti che stiamo considerando che saranno sostenuti dal fondo europeo per la difesa eh sono progetti legati alle tecnologie dual use eh cioè quelle tecnologie che sono state sviluppate nel settore civile che poi vengono trasferite eh o tradotte se vogliamo eh nel settore della difesa e quindi c'è appunto questo tipo di approccio eh e poi c'era anche una parte di questa domanda legata alle priorità eh nel contesto appunto del eh della ripresa sostenibile e come ho detto eh le priorità sono già state stabilite bene nel 2018 nel piano per lo sviluppo delle capacità e sono quelle priorità che eh guideranno lo sviluppo a lungo termine eh ma certamente con queste nostre esperienze più recenti ci sono nuovi accenti nuove enfasi se vogliamo eh da parte dei nostri colleghi militari c'è eh la richiesta di dare priorità a quelle capacità che possono essere usate eh nelle nelle missioni se vogliamo eh c'è una nuova tendenza nel sviluppo delle capacità legato appunto alla cosiddetta green defense la difesa green eh ecologica e c'è molto da fare per migliorare dal punto di vista ecologico magari fornendo energia smart eh soluzioni energetiche intelligenti magari per gli accampamenti militari per i quartieri generali per le operazioni ad esempio eh durante la missione ISEF in Afghanistan eh all'apice della missione ISEF in Afghanistan eh eh dodici anni fa c'erano centoquarantamila militari eh immaginerete quindi che ogni anno eh venivano bruciate eh centinaia di migliaia di tonnellate di combustibili l'ottanta per cento del gas bruciato in Afghanistan non è stato per i veicoli per gli aeroplani eh era soltanto necessario per giustire le basi militari quindi vedete che si tratta di una eh di un tema ambientale enorme con enormi implicazioni i danni ambientali eh anche a livello di emissione di CO2 eh la Nato sta puntando molto sulla sulla difesa green sull'economia circolare lo stiamo facendo anche noi e anche qui eh torniamo alle tecnologie che hanno questo utilizzo duplice che partono dal settore civile vengono trasferiti nelle settore della difesa e che possono quindi evitarci ad avere una ripresa sostenibile dopo il covid eh e poi dobbiamo appunto fare tesoro dell'esperienza eh derivante dalla pandemia del covid eh per appunto fare tesoro della lezione eh dell'impatto di una malattia come questa su tutte le nostre attività quindi vi scuso per aver eh impiegato così tanto tempo a rispondere ma pensavo che tutte le vostre ottime domande lo meritassero quindi grazie ancora eh chiaramente ricordatemi nel caso avessi dimenticato qualcosa bene direttore eh grazie eh anzi grazie per aver trasmesso il suo entusiasmo io non ho eh ulteriori richieste di intervento da parte dei colleghi pertanto eh rinnovo i ringraziamenti per la disponibilità per il contributo che ha dato alla nostra commissione ringrazio appunto il nostro eh ospite tutti gli intervenuti permettetemi anche un ringraziamento ai funzionari tecnici che hanno permesso eh diciamo la la seduta e dichiaro conclusa l'audizione grazie ancora grazie grazie